Ti è mai capitato di sentirti scarico dopo aver trascorso del tempo con qualcuno? Hai mai vissuto quella sensazione di esaurimento come se l'ultima briciola della tua energia positiva fosse stata spazzata via, lasciandoti completamente a corto di forze? Forse, in qualcuno di quei casi, o in tutti, ti sei domandato cosa sia successo. Sì, oggi parliamo proprio di loro, quelle persone che sembrano rendere ogni momento un po' più difficile, le persone tossiche. Sia che si annidino nel tuo ambiente di lavoro, che frequentino le tue cerchie sociali, sia che si trovino addirittura all'interno della tua famiglia, affrontarle è diventato un aspetto inevitabile della tua vita. Ma come puoi gestirle senza perdere la tua pace interiore e mandare a rotoli la tua salute mentale? Oggi ti guideremo attraverso nove semplici strategie intelligenti per fare proprio questo. Sei pronto a trasformare la tua esperienza con le persone tossiche e a riportare serenità nella tua vita? Allora iscriviti subito al canale Dose Mentale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i nostri contenuti simili. Inoltre, accedi all'Accademia di Crescita Personale che trovi in descrizione. Iniziamo! Innanzitutto, chi è una persona tossica? Il primo passo è riconoscere chi sono le persone tossiche. Questi individui possono farti sentire costantemente giudicato, sminuito o manipolato. Imparare a identificarli è fondamentale per gestirli in modo efficace. Una persona tossica è qualcuno la cui presenza o comportamento ha un impatto negativo costante sulla tua vita. Questi individui tendono a diffondere negatività, drenare la tua energia e spesso manipolano o sfruttano le situazioni al loro vantaggio, lasciandoti con un senso di esaurimento o insoddisfazione. Può trattarsi di qualcuno che ti critica costantemente, che si lamenta senza mai cercare soluzioni o che si comporta in modo egoistico, trascurando i tuoi bisogni e sentimenti. Identificare questi individui non è sempre facile, poiché possono apparire affascinanti superficialmente, ma nel tempo le loro vere intenzioni diventano evidenti attraverso azioni che mirano a controllare, degradare o limitare la tua felicità e il tuo successo. Ecco quindi le nove semplici strategie per proteggerti da essi. 1. Scegli le tue battaglie. Non è necessario confrontarsi su tutto. A volte, ignorare le provocazioni può essere la scelta più saggia. Questo è un principio che sottolinea l'importanza di decidere quando è opportuno reagire o intervenire in una situazione e quando invece è meglio lasciar perdere. Applicato al contesto delle interazioni con persone tossiche significa riconoscere che non tutti i comportamenti negativi meritano la tua risposta o il tuo intervento. A volte, confrontarsi con queste persone o cercare di correggere ogni loro azione o parola negativa può rivelarsi controproducente, consumando le tue risorse emotive e aumentando il tuo livello di nervosismo. Ignorare le provocazioni, in questo contesto, non significa permettere agli altri di trattarti male senza conseguenze, ma piuttosto scegliere consapevolmente quali battaglie valgono la pena di essere combattute. Questo approccio ti permette di conservare energia per le questioni veramente importanti e per le aree della tua vita che richiedono attenzione e cura. Inoltre, minimizzare il tuo coinvolgimento in dispute inutili o in cicli di negatività può aiutare a ridurre lo stress complessivo e a mantenere un senso di equilibrio e benessere personale. 2. Limita l'interazione. Limitare l'interazione con le persone tossiche è una strategia difensiva per proteggere il tuo benessere emotivo e mentale. Questo approccio comporta ridurre consapevolmente sia la frequenza, sia la durata del contatto con individui che sfidano la tua energia, diffondono negatività o ti provocano disagio. L'idea è di creare uno spazio personale più salutare, circondandoti di persone che ti sostengono, ti ispirano e contribuiscono positivamente alla tua vita. Quando riduci le interazioni con le persone tossiche, limiti l'impatto che la loro negatività può avere su di te. Questo non solo migliora il tuo stato d'animo generale, ma libera anche tempo che puoi dedicare a relazioni più costruttive e arricchenti. Trascorrere più momenti con persone positive può elevare il tuo spirito, incentivare la tua crescita personale e rafforzare la tua resilienza di fronte alle sfide della vita. In pratica, limitare l'interazione può significare prendere decisioni deliberate su come e con chi trascorrere il tuo tempo, stabilire confini chiari e, se necessario, distaccarsi fisicamente o emotivamente da relazioni dannose. Questo processo può richiedere coraggio e determinazione, ma i benefici per la tua salute emotiva e per la tua qualità della vita possono essere significativi. 3. Non prendere le cose sul personale. Le persone tossiche possono proiettare spesso i loro problemi su di te. Ricorda che il loro comportamento non ha nulla a che fare con te. Mantenere una certa distanza emotiva può aiutarti a non essere ferito dai loro comportamenti. Molto spesso questi individui agiscono spinti da insicurezze, frustrazioni o problemi non risolti nella loro vita e il loro comportamento dannoso riflette queste questioni interne e non i tuoi difetti. Capire che le loro azioni e parole sono il risultato delle loro lotte personali può aiutarti a disinnescare l'impatto emotivo che potrebbero avere su di te. Mantenere una certa distanza emotiva significa non lasciare che modifichino la tua pace interiore o il tuo senso di valore. Questo non vuol dire diventare insensibili o indifferenti o credere di essere perfetti, ma piuttosto sviluppare una sorta di armatura emotiva che ti permette di osservare e riconoscere il comportamento tossico senza lasciarti trascinare giù da esso. Praticare questa distanza emotiva può includere tecniche di mindfulness o meditazione che ti aiutano a rimanere centrato e consapevole del presente senza essere sopraffatto dalle emozioni. Può anche significare ricordare a te stesso il tuo valore e le tue qualità positive, indipendentemente dall'approvazione o dalla valutazione degli altri. 4. Usa la comunicazione assertiva. Quando devi comunicare con una persona tossica, utilizza un approccio assertivo. Esprimi i tuoi bisogni e sentimenti chiaramente e senza aggressività. Questo ti aiuterà a farti rispettare mantenendo un dialogo costruttivo. Adottare la comunicazione assertiva nel trattare con persone tossiche si rivela un metodo efficace e rispettoso che ti consente di esprimere pensieri, sentimenti e bisogni in maniera diretta e onesta. Utilizzando un linguaggio specifico e diretto, evitando generalizzazioni o accuse, si può chiarire la propria posizione senza innescare conflitti. L'assertività ti permette inoltre di stabilire confini sani, prevenire escalation di tensione e promuovere un rispetto reciproco, dimostrando così stima verso te stesso e verso l'altro. Essere assertivo ti aiuta anche a trovare soluzioni costruttive ai problemi, spostando il focus da atteggiamenti difensivi o aggressivi verso compromessi praticabili. Sebbene richieda pratica, specialmente per chi è abituato a comunicare in modo passivo o aggressivo passivo, sviluppare un approccio assertivo migliora notevolmente la qualità delle interazioni, rendendole più soddisfacenti e meno pressanti, soprattutto quando si ha a che fare con comportamenti tossici. 5. Stabilire limiti chiari. Una volta identificata una persona tossica, è importante stabilire confini chiari. Questo processo implica comunicare in modo diretto ed efficace quali comportamenti consideri accettabili e quali no nelle interazioni con te. È un modo per affermare il tuo spazio personale e le tue esigenze, delineando una sorta di frontiera immaginaria che l'altra persona non dovrebbe oltrepassare. Quando definisci questi confini, non solo preservi la tua vitalità, evitando situazioni che potrebbero risultare estenuanti o dannose, ma fornisci anche all'altra persona una chiara comprensione di come interagire con te in modo rispettoso. Questa chiarezza può prevenire incomprensioni e ridurre il potenziale di conflitto, poiché entrambe le parti sono consapevoli delle aspettative reciproche. Impostare limiti chiari richiede coraggio, poiché potrebbe comportare confrontarsi con reazioni negative. Tuttavia, è fondamentale per costruire le basi di qualsiasi relazione sana e rispettosa. Questa pratica non solo ti beneficia direttamente, ma può anche influenzare positivamente la dinamica generale della tua relazione con la persona tossica, incoraggiando un comportamento più costruttivo e rispettoso. 6. Pratica l'autocura. Prendersi cura di se stessi è fondamentale, soprattutto quando si ha a che fare con persone difficili. Trova tempo per le attività che ti rilassano e ti rendono felice. L'autocura è un potente antidoto allo stress causato dalle relazioni tossiche. La pratica dell'autocura assume un ruolo cruciale nel contesto di relazioni complesse. Essa implica dedicare consapevolmente tempo e volontà ad attività che promuovono il tuo benessere fisico, mentale ed emotivo. In presenza di persone complicate, che possono generarti stress o tensione, l'autocura funge da controbilanciamento, aiutandoti a mantenere o recuperare la tua serenità interiore. Incorporare nella tua routine quotidiana momenti dedicati al relax e alla felicità non è solo un modo per distaccarti dalle negatività, ma rappresenta anche un investimento per la tua salute a lungo termine. Che si tratti di leggere un libro, fare una passeggiata nella natura, meditare, praticare yoga o dedicarsi ad un hobby creativo, queste attività rafforzano la tua resilienza emotiva di fronte alle sfide poste dalle relazioni difficili. L'autocura, quindi, non è un lusso o un segno di egoismo, bensì una necessità che ti consente di rigenerare le tue risorse interne. Agendo come un antidoto allo stress, ti permette non solo di affrontare meglio le situazioni difficili, ma anche di migliorare la qualità della tua vita. 7. Mantieni una mentalità aperta al cambiamento. Questo approccio riconosce che la trasformazione personale è possibile e che, con il tempo e le circostanze giuste, anche le dinamiche relazionali più problematiche possono evolvere in modo positivo. Tuttavia, è importante sottolineare che questa apertura non implica rimanere passivi o tollerare comportamenti dannosi con la speranza che l'altro cambi. Piuttosto, significa restare ricettivi al potenziale di crescita e miglioramento, sia in se stessi che nell'altro. Adottare una mentalità aperta al cambiamento permette di osservare le situazioni da diverse prospettive e di valorizzare i progressi, per quanto piccoli possano essere. Questa disposizione può incoraggiare sia te che le persone intorno a te a perseguire lo sviluppo personale, migliorando così la qualità delle vostre interazioni. Inoltre, mantenere una mentalità aperta ti equipaggia meglio a gestire le delusioni se le cose non dovessero cambiare come sperato. Ti permette di adattarti, apprendere dalle esperienze e, se necessario, prendere decisioni sane per te stesso, inclusa la scelta di distanziarti da relazioni che rimangono nocive. In sintesi, avere una mentalità aperta al cambiamento è un equilibrio tra speranza e realismo, una filosofia di vita che promuove il tuo benessere personale, mantenendo lo spazio per la crescita e il miglioramento nelle tue relazioni. 8. Coltiva la tua rete di sostegno. Non affrontare da solo le persone tossiche. Cerca supporto da amici, familiari o professionisti. Avere qualcuno con cui parlare può fare una grande differenza. Coltivare la tua rete di sostegno è essenziale quando si tratta di gestire le interazioni con persone tossiche. Affrontare da solo le sfide che queste relazioni possono presentare è non solo difficile, ma può anche intensificare il senso di isolamento e stress. La ricerca di supporto di amici, familiari o professionisti della salute mentale offre un rifugio sicuro dove puoi esprimere liberamente i tuoi pensieri e sentimenti, ricevere consigli obiettivi e rafforzare la tua resilienza emotiva. Avere qualcuno con cui parlare non solo ti aiuta a sentirti ascoltato e compreso, ma può anche offrirti diverse prospettive sulle tue situazioni, suggerimenti pratici su come affrontarle e, quando necessario, il conforto di sapere che non sei solo. Inoltre, la condivisione delle proprie esperienze con persone di fiducia può facilitare l'identificazione di soluzioni che non avresti considerato da solo. Quando le dinamiche tossiche sono particolarmente gravose o complicate, cercare il supporto di un professionista, come uno psicologo o un terapeuta, può offrire ulteriori benefici. I professionisti della salute mentale possono fornire strumenti specifici per gestire le relazioni tossiche, lavorare sul rafforzamento dell'autostima e aiutare a sviluppare strategie efficaci per la comunicazione e l'affermazione di sé. In definitiva, coltivare e mantenere una rete di sostegno non solo alleggerisce il peso emotivo delle relazioni tossiche, ma promuove anche un senso di appartenenza e sicurezza. Essere circondati e sostenuti da persone che ti vogliono bene è un potente antidoto alla negatività e un pilastro fondamentale per il tuo benessere generale. 9. Sii gentile con te stesso. L'autocompassione è un potente strumento di guarigione e crescita. Riconosci che fare errori, sentire dolore e provare dubbi sono parti del processo di apprendimento e non diminuiscono il tuo valore. Trattarti con amore e comprensione ti darà la forza di superare qualsiasi sfida. Essere gentili con se stessi è un principio fondamentale per navigare con successo attraverso le sfide della vita, specialmente quando si affrontano persone tossiche o situazioni difficili. L'autogentilezza va oltre il semplice essere buoni con se stessi. È un approccio olistico che incoraggia l'accettazione, la comprensione e il sostegno nei propri confronti, soprattutto nei momenti di difficoltà. Trattarti con amore e comprensione significa concederti la stessa empatia e cura che offriresti a un amico caro in difficoltà o a un bimbo piccolo. Implica permettersi di riposare quando è necessario, celebrare i propri successi, per quanto piccoli, e perdonarsi. Questo atteggiamento benevolo nei confronti di se stessi ti fornisce la forza emotiva necessaria per affrontare e superare le sfide, inclusa la gestione di relazioni tossiche. L'autogentilezza, inoltre, agisce come uno strumento di guarigione, facilitando il processo di recupero dalle ferite emotive e rafforzando la tua capacità di affrontare situazioni future con maggiore sicurezza. Attraverso queste pratiche non solo navigherai con successo attraverso le relazioni tossiche, ma emergerai come una persona più forte, più compassionevole e più pienamente realizzata. Ricorda, il tuo viaggio verso la crescita personale è infinito e ogni passo, indipendentemente dalle sue dimensioni, è un passo verso la versione più autentica di te stesso. Grazie per aver guardato questo video. Non dimenticare di condividerlo con chi ne trarrà beneficio. Inoltre, ti ricordiamo di accedere all'Accademia di Crescita Personale che trovi in descrizione per iniziare da oggi il tuo cambiamento verso una vita più calma e consapevole. Ci vediamo nel prossimo video.